E' stato una rapina. E' stato una rapina. Per presentare il nuovo film di Marco Risi, Tre mogli. La storia di tre donne che scoprono il valore dell'amicizia e del piacere di esistere. Un viaggio che partirà dall'Italia e che le porterà fino alla fine del mondo, alla ricerca dei mariti fuggiti. Con Francesca D'Aloia, Giaia Forte, Cirche. Se io dovessi descrivere questo film... Antonio è puntuale come un orologio. Direi che è la storia di tre donne... Lui, ma Saverio, com'è che non arriva? ...molto diverse l'una dall'altra per carattere. Certo che è proprio uno stronzo. Certo. Ma almeno ti poteva chiamare. Che si trovano insieme alla ricerca dei tre mariti che sono scappati in Argentina. C'è stata una rapina. L'hanno fatta loro. Cosa? La rapina. Chi? Loro. Sono stati loro a fare la rapina. Ma che impazzito. No. E quanto hanno rubato? Ma tramanchi sui conti, bonifici in valuta estera e fondi di investimento che hanno cambiato il pubblicitario. 9 miliardi, 220 milioni e 500 mila. Oh, cazzo. E quello che ho detto così. Il mio personaggio è la più snob, la più arrogante, la più fredda apparentemente di tutte, di quelle che danno le attività da fastiduiti ed è abbastanza chiusa. Ti faccio incazzare? Certamente sì, non ti sopporto. Pure te mi fai incazzare. Ne vuoi sapere perché? No, non ci tengo. E invece te lo dico lo stesso. Mi fai incazzare perché non ti capisco. Ma che vorresti capire? Come sei fatta? Io di solito lo capisco al volo, sei uno stronzo o no. E io come sono? La prima volta che ti ho visto ho pensato subito carina stronzo, con quell'aria superiore e guardi tutti dall'alto in basso. Ma non è colpa mia, sono alta a metro e 82. Lo vedi? Bill Hill. È una ragazza molto libera. Non conosco nessuna libera e forte come lei. Tom Cruise, per esempio, ti piace? No. Brad Pitt? No. E Johnny Depp? No. Vabbè, ma loro non ti piacciono gli uomini, Bill? Certo che mi piacciono gli uomini, che c'entra? E allora dimmene uno che ti piace. Ce ne sarà uno, no? Cary Grant. Cary Grant? E chi è? Uno nuovo? Bianca interpretata da Iaia invece è una sottostressi di quelle che non hanno mai viaggiato, che si prendono una pillola per ogni stato d'ansia che riguarda sia l'arrosto che non si cuoce, piuttosto che l'arrivo di ritardo del marito. Mi aiuti lei! E' successa una tragedia! Che tragedia? Le lenticchie. E' scoppiata la pentola, ho dovuto buttare tutto. Se Antonio non trova le lenticchie a mezzanotte è un disastro. Ecco le lenticchie. Sono pregotti e sono buonissimi. Il film Tre Mogli è bello perché è come fosse una sorta di commedia sofisticata, come si diceva una volta. Una commedia dove vengono risaltati alcuni sentimenti. Questo film mi sembra che comunichi una grande gioia. Antonio non è mai andato con una di quelle. Antonio! Amore appassionato! Totolo Dio! La tariffa massima! Si esce con una sensazione di tranquillità, di piacevolezza. Tre donne, tre mogli, un viaggio alla ricerca di se stesse, alla scoperta di una natura che non credevano di possedere, tra stupori e sorprese, rivelazioni e risate. Io a Antonio ci penso sempre di meno. Anch'io ci penso di meno. A chi? A Antonio. Tre mogli, al cinema. Grazie. 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 Grazie.